che meraviglia la meraviglia vivrei halloween solo per poter rimettere ogni volta questa questa canzone giustificata this is halloween da the nightmare before christmas un film del 1993 che anno quello prima abbiamo parlato di steven spilberg e john williams nei 93 sono usciti sia giulassic park che schindler's list per dire no che dice ama gli anni 90 non c'è no c'è un sacco di roba gli anni 90 e nightmare before christmas ci permette di aprire una piccola parentesi sui film horror voi direte basta questi film no perché questo è il momento giusto per darvi qualche consiglio di visione se avete voglia magari di consentire a queste atmosfere un po tenebrose di hollywood e di halloween potrebbero esservi utili i miei consigli intanto scusate mi metto una base un po più impegnativa che poi magari riconoscerete forse potete scrivermi di che si tratta le 5 1 5 2 4 1 scusate le 5 1 5 2 4 1 1 0 1 chissà se qualcuno la riconosce allora intanto se avete bambini o avete a che fare con ragazzi e ragazzini nightmare before christmas è sempre un'ottima visione e direi anche giulassic park che non è un film horror ma comunque un film che fa paura ed è un film che sta invecchiando ed invecchia meravigliosamente cioè sono credibilissimi dinosauri di giulassic park andiamo invece un po più nello specifico se avete voglia di vi do varie diciamo alternative con anche i posti dove li potete vedere parlando ovviamente di provider streaming se avete ne avete la possibilità allora partiamo da una saga che sto affrontando in questo momento e che devo dire è divertente lo so sono pazza probabilmente io sto parlando di terrifier terrifier è un horror splatter ma proprio di quelli il più becelo che vi può venire in mente così becelo che io sto ridendo guardandolo si tratta di un film che ha varie diciamo vari sequel è una saga poi fondamentalmente il primo è del 2016 se volete lo trovate su prime sicuramente trovate il primo e la trama è molto molto semplice si tratta di un clown sadico che uccide le persone nel modo più veramente orripilante vi possa venire in mente è molto molto splatter però è anche appunto talmente violento che un po fai giro e ci si trova un po sorridere di questo clown che ogni tanto fa delle cose da clown ovvero per esempio utilizza in dei micro telecicli per muoversi oppure fa delle facce che in teoria dovrebbero essere divertenti ovviamente sul sul suo aspetto fanno una hanno un effetto molto inquietante però sono anche un po divertenti e se invece vogliamo andare un po più sulla qualità alta secondo me è sempre molto interessante rivedere silent hill silent hill è un film del 2006 c'è anche una serie di videogiochi che credo sia precedente sì è sicuramente precedente al film e l'altra è uscita sì no il 2006 è uscita in italia e i videogiochi vengono definiti un survival horror quindi insomma videogiochi dove bisogna sopravvivere in un ambiente horror e devo dire che silent hill secondo me è un uno degli horror molto fatti molto bene molto funzionanti e di del genere città abbandonata città misteriosa che è proprio questa silent hill sempre avvolta da questo manto diciamo di neve che però sembra quasi polvere una città fantasma vera e propria dove ovviamente non è il caso di andarsi ad infilare cosa che fanno i protagonisti con con grande diciamo sprezzo del pericolo e non finisce le cose non finiscono bene e silent hill lo trovate anche questo su prime rimaniamo sulla sul mondo prime perché troverete anche lì speak no evil ne abbiamo parlato anche qui su letture metropolitane è un film del nella sua versione originale del 2022 un film di origine in realtà una produzione mista inglese danese olandese quindi di origine nordica che poi è stata ripresa e copiata diciamo rifatta in una versione hollywoodiana ma io vi consiglio dal profondo del quale la versione originale per la regia di christian tafdrup è un film veramente terribile e tutto umano cioè qui il male è proprio il male dell'uomo il male delle persone una famiglia che sembrerebbe una famiglia normalissima che fa amicizia con un'altra famiglia in vacanza e li invita poi a stare un po con loro nella loro casa e verranno fuori delle cose terribili e la famiglia è spesso un luogo di elezione per l'horror perché chi di noi insomma ha vissuto qualsiasi cena di famiglia in particolare durante le feste sa di cosa sto parlando e devo dire che è questo è un horror particolarmente riuscito sotto tutti i punti di vista proseguiamo poi con un classico possiamo definirlo classico anche se andiamo indietro solo nel 2007 che è rec è un horror spagnolo ed è uno dei più riusciti che segue lo stile del fan footage cioè del finto dei finti filmati ritrovati un po tipo the black witch project ecco per rimanere per rimanere in tema e si parla di una sorta di mi è da dire epidemia quindi c'è un po una parte medica virale e un'altra invece una parte soprannaturale però è un horror particolarmente riuscito si sono un po persi nei sequel perché ce ne sono tanti il primo è sicuramente secondo me quello che maggior ha maggior interesse sotto tutti i punti di vista se invece siete più appassionati di true crime rimane per me interessante anche nonostante tutte le polemiche legate al poco spazio dato alle vittime damer la trovate della serie monster la trovate su netflix qualche altro titolo giusto per darvi un piccolo cenno classico lo trovate su paramount plus rosemary's baby meraviglioso trovate invece sempre su paramount e su apple tv a quiet place 1 e 2 e trovate troverete poi presto anche il 3 che è una serie un film meraviglioso basato tutto sul silenzio quanto il silenzio possa essere da una parte inquietante ma dall'altra salvifico e qualsiasi cosa invece recuperate di jordan pilla secondo me andate sul bene soprattutto get out meraviglioso e anche as a me non è dispiaciuto concludo con un horror di origine giapponese mi raccomando recuperatelo recuperate l'originale il giapponese del 2002 che è juon sottotitolo rancore che è uno è stato uno dei primi insieme probabilmente alla versione originale di ring a trasmettere quell'ansia tipica diciamo del degli horror giapponesi così degli horror orientali così lontani dall'estetica occidentale ma che proprio per questo sono sempre inaspettati e molto efficaci a proposito di jordan pilla ascoltiamo il prossimo brano che è tratto appunto da uno dei suoi film da asi in particolare dalla colonna sonora si intitola forever appunto da sei Grazie a tutti